Tre ettari di vegetazione del Parco Nazionale del Gargano sono andati distrutti in un incendio ieri sera tra Lago Salso e Valle Alto, nel territorio di Manfredonia. L'incendio è stato domato grazie all'intervento di due fireboss che hanno eseguito alcuni lanci d'acqua. Con preoccupazione e rammarico viviamo l'ennesimo atto incendiario. Chi ha piccato il fuoco nell'oasi Lago Salso non ha bruciato solo una parte bellissima di quell'area, ma ha distrutto la ricchezza economica e naturalistica che è proprietà di tutti. Lo ha dichiarato Stefano Pecorella, presidente del Parco del Gargano, riferendosi all'incendio del Lago Salso. È una ferita che drammaticamente si riapre, spiega Pecorella, poiché vede andare in fumo preziosi ettari di biodiversità di una zona puntualmente oggetto di simili biliatti. Guarda caso proprio quando il Parco Nazionale del Gargano sta diventando l'unico soggetto gestore. Brutta coincidenza. Siamo stati e siamo e saremo in prima linea, sicura Pecorella, per la difesa e la valorizzazione dell'oasi del Lago di Salso e per cercare di creare un'occupazione stabile a chi lo merita. Chi cerca di imboccare altre vie non ama questa terra. Saremo vigili per accertare responsabilità e consentire alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia gli autori di questi gesti.